Ok, quindi stavi esprimendo un concetto importante, cioè che il miglioramento delle condizioni carcerarie sono stati determinati da un fattore particolare. Quale, Lucio? Un fattore decisivo, assolutamente determinante, che è stata la massa dei ricorsi fatti dai detenuti e accolti dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo. Se non ci fosse stata, in base a questi ricorsi, la condanna dell'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, nulla si sarebbe mosso. Tutto quello che è avvenuto sia a livello parlamentare che a livello regolamentare da parte del DAP è stato ottenuto grazie all'impegno e alla fiducia nella giustizia manifestato dai detenuti stessi che hanno utilizzato né più né meno che dei diritti a loro riconosciuti sia a livello internazionale che a livello nazionale. E dunque dobbiamo tutti ringraziare l'impegno e questa dimostrazione di fiducia nella legge dimostrato dai detenuti e dobbiamo impegnarci perché siano le istituzioni a fornire in continuo i dati in base ai quali i detenuti fanno ricorso alla Corte Europea. Grazie Lucio Grazie Grazie